Si è svolto stamani in videoconferenza l'attesissimo incontro tra governo, sindacati, gindalle, istituzioni locali e regionali sulla nostra vicenda delle acerie di Piombino. Presenti tra gli altri Marco Carrai per la parte aziendale e Alessia Morani in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Alla fine purtroppo solo un rinvio, niente piano industriale e nessuna certezza sulla costruzione del nuovo forno elettrico. Tutto rinviato al prossimo 31 gennaio, giorno in cui le parti torneranno ad incontrarsi. Non si può perdere altro tempo, dicono congiuntamente i sindacati di Fim e Wilme. Non possiamo permettere a nessuno di giocare sulla pelle di lavoratori e cittadini. Più sfumata è invece la posizione della fiume che tra le righe coglie anche aspetti positivi. Le aspettative erano tante ma non nessuna delusione. Anzi, penso che sia molto interessante la strategia messa sul tavolo dal governo. Quello è, se posso definire, la più antica del mondo del bastone e della carota. Penso che questa strategia sia una strategia che può pagare. Cioè da una parte si fa vedere all'imprenditore le disponibilità, l'importante contratto su RFI, l'importante disponibilità di certificati bianchi, 40 milioni di grant, la disponibilità di 30 milioni della regione, ma dall'altro anche la possibilità che se questo non gli interessa o non è interessato per il territorio, c'è già pronto un lavoro per un'altra compagine.